è stata un'esperienza molto interessante perché lavorare nei campi sia il pomeriggio che la mattina andare nel laboratorio era un'esperienza che non ho mai vissuto poi l'abbiamo vissuta anche in maniera scherzosa infatti i pomodori marci li scattavamo buttandoli contro le altre coppie che raccoglievo di pomodori consiglierei questa questa esperienza agli altri perché appunto un'esperienza molto formativa parlo personalmente perché non l'avevo mai fatto come già detto allora il campo è stato è stato fruttifero cioè ci mettiamo ci siamo messi in gioco per per fare attività che molti di noi non abbiamo mai fatto e questo qua ha dato molta felicità a tutti e consiglio e consiglio vivamente tutto ciò per per conoscere nuove persone e nuove attività da fare e anche per me è stata una bella esperienza abbiamo condiviso tutti insieme questo momento formativo dove ci siamo messi in gioco usando le mani lavorando nei campi sia nel pomeriggio che nella giornata del mattino seguente nel laboratorio è un'esperienza che mi è servita a me personalmente consiglio anche agli altri gruppi anche di farla perché l'opportunità di servizio e di prendersi cura prendersi cura del territorio perché lo spirito anche della successione pare che sia questa complimenti ancora è un'esperienza bellissima però non si raccolgono soltanto come un giorno poi ci possiamo sbagare in diversi modi qua in sede per me è un'esperienza bellissima perché ho visto nelle persone che operano in questo posto molta grinta e tenacia tutte le cose che fanno io voglio dare agli altri il consiglio di venire qui a svolgere le attività proprio perché riesce a sporcarti davvero le mani è stata una bella esperienza perché ha fatto conoscere una bella realtà vicino casa e la consiglio perché ti lascia più carica di quanto la cosa più bella che ho vissuto da questa esperienza è stato incontrare dei volti gioiosi felici di questa di questa grande iniziativa e la consiglio soprattutto a quei giovani che magari in questo momento si trovano in difficoltà e non sanno cosa fare perché appunto può dare delle grosse opportunità di lavoro di crescita e di formazione è stata un'esperienza molto utile perché anche in modo scherzoso ti fa fare esperienze in ambito lavorativo può essere un possibile punto di partenza per il futuro e per questo lo consiglio a molti giovani grazie perché ci avete dato una grande esperienza una grande opportunità di renderci utili e consiglio a tutti di venire qui perché qui si scopre veramente una grande ricchezza che abbiamo nella nostra terra un'esperienza che rifarei un milione di volte perché qui ho trovato persone ospitali che sanno il fatto loro riguardo all'agricoltura uno dei settori che adesso sta andando di più e se e direi agli altri di fare questa esperienza perché si troveranno perché sporcarsi le mani come hanno già detto qui è realizzabile